musica oee bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo speciale video io sono xyuder e ragazzi voglio fare visto che ve l'avete chiesto in tantissimi il video omaggio perché oggi è un anno di full shop che cosa vuol dire? vuol dire che sono 365 giorni che ho lo shop completo su fortnite ovviamente devo ringraziare voi per avermi aiutato perché da solo era impossibile e portiamoci direttamente allora nella lobby non potevo che celebrarlo con quella che è la skin più rara attualmente di fortnite noi lo chiamiamo simpaticamente chunga wanga lui in realtà si chiama spaziale e sono più quasi 500 giorni che non esce le skin nell'armadietto ragazzi sono 666 numero abbastanza ambiguo perché non avevo contato le ultime due e giustamente chiediamoci quali sono le più rare quali sono quelle che ho allora vi dico subito io gioco a fortnite da quando è uscito praticamente non ho preso il pass battaglia della season 2 non ho la galaxy e non ho la renegade raider e non ho l'aerial assault detto questo come vedete ce ne sono tantissime ve le faccio vedere partendo dall'alto verso il basso cerchiamo di soffermarci su qualche skin importante il cavaliere del ragno ribelle ad esempio quella che è uscita per il bundle di xbox scendendo un pochettino fatemi un po' vedere così potete guardare anche voi come skin interessanti c'è la mia preferita ovviamente il love ranger vabbè io è stata la mia prima skin shoppata nel febbraio 2018 abbiamo tutti i bundle usciti quindi il bundle delle leggende succose il set dei soldati del sole ma abbiamo anche il set stregone abbiamo anche tutto il set di batman tutto il set di ninja tutto quello di travis tutto quello di marshmallow tutto quello di dei major laser abbiamo tutto il set della marvel e poi il volume a 11 quello il set dell'oscurità praticamente lo star wars e ovviamente la vabbè la gold banana a livello 350 che avete già visto in tutto che avete visto tutti sicuramente set completi un pochettino meno rari gli alpini ragazzi li abbiamo tutti proseguendo un'altra skin che potrebbe essere interessante abbiamo tutti i giocatori di football e anche lì è stata una manata incredibile la mia prima skin rara ragazzi il bombardiere reale tanta tanta roba ma abbiamo anche tutti gli orsacchiotti usciti questo è uno di quelli che esce meno frequentemente il capo squadra fuochi d'artificio e un'altra delle skin che mi piace tantissimo cicuta la strega quella che si trasforma abbiamo tutti gli starter pack a partire dal compagno di volo quello uccito in season 4 abbiamo un altro set molto bello quello che reputo essere forse il migliore di fortnite il set del giorno dei morti andiamo avanti vediamo la seconda skin più rara che secondo me è quella del bundle di nintendo switch quindi la doppia elica si chiama in italiano che è corredata da parte del suo deltaplano e tutto e abbiamo anche fiore del sogno che fa parte appunto del set di spaziale anche se in realtà è meno rara di lui abbiamo andando avanti tutte le skin pasquali uscite quest'anno e uscite l'anno scorso abbiamo il set dell'ottoberfest ludwig con la tizia e tutte le skin uscite a natale quindi ad esempio il milite bruciatore che è bellissimo lo scheletro appunto vestito da babbo natale andando avanti fatemi dare un'occhiata perché ci sono tante cose interessanti mi sono perso il john wick della season 3 mi sono perso anche omega maxato che sicuramente non tutti sono riusciti a raggiungere perché non era possibile maxarlo nella season successiva la honor guarda ad esempio un'altra delle skin abbastanza difficili da trovare anche se in realtà ne hanno vendute parecchio parecchie e andando avanti eccolo qua l'altro set oscuro sto andando piano in modo che potete guardarvi tutte le skin tranquillamente oh abbiamo efesto eccolo qua l'abbiamo preso assieme l'abbiamo preso glielo dico di usarlo non lo usa mai non lo usa non so perché set completo anche dei vien da ridere set completo anche dei calciatori zombie che non è detto escano nel prossimo halloween andiamo avanti e vediamo che cosa c'è ancora di interessante vabbè oh è rarissima l'esperto recognitore no non è assolutamente rara perché ce l'hanno tutti questo non sapevo neanche di averlo questo è uscito una volta Krillin talmente talmente strano che non me lo ricordavo neanche e andiamo avanti a vedere ancora scendendo nella sezione delle rare vabbè i calciatori ve l'avevo già detto che c'erano tutti Maximilian molto molto bella anche questa come skin l'elfo che siamo stati obbligati a prenderlo con il set che è uscito lo scorso inverno ovviamente anche tutte le skin uscite nella 14 giorni di Fortnite e scendendo un pochettino abbiamo rivolta che noi chiamiamo molto amichevolmente Roncio e alcune skin uscite invece negli anni dedicate alla season 2 scendiamo ancora un pochettino abbiamo spina dorsale anche lui non esce davvero da tantissimo e secondo me anche spezzacuori io non mi ricordo di averlo visto quest'anno nell'evento di San Valentino ma potrei sbagliarmi l'ho preso l'anno scorso andiamo avanti ancora e vediamo un pochettino che cosa c'è di interessante di skin che potrebbero essere un pochettino più ricercate diciamo ma qua entriamo nei set quelli comuni non comuni quindi abbiamo tutto il set natalizio abbiamo anche tutto il set delle World Cup Guerrero del Mondo e tutte le altre bellissimo il leader squadra quadrifoglio quindi l'orsacchiotto dedicato a San Patrizio e abbiamo invece quelle speciali tipo il Milite Patriotico che esce solamente per il 4 luglio in America scendiamo ancora un pochettino queste sono quelle della season 2 che sono appunto riuscite come vi stavo dicendo negli anni tanta roba averle potute ottenere e terminiamo insomma con quelle che avete già visto prima di salutarvi ovviamente noi parliamo di skin ma in realtà ci sono anche tantissimi picconi perché alcuni sono usciti magari senza per forza avere un set e quindi eccoli qua ragazzi una carrellata molto molto veloce di tutti i picconi uno che apprezzo particolarmente è dove cavolo è abbiamo il minti ovviamente no questo è lascia caramella ma il minti è qua eccolo qua uno che mi piace tantissimo di piccone a parte i due picconi di Harley Quinn che secondo me sono meravigliosi il martellone è tanta tanta roba ma uno che mi piace a me particolarmente è il piccone squeak che esce spesso e volentieri ma valle della morte davvero figo secondo me è tanto che non esce e potrebbe diventare uno dei picconi rari poi ci sono invece quelli un pochettino più normali come state vedendo stiamo passando la bacchetta a stella molti sono in poche parole degli outfit riproposti in colori diversi vediamo se c'è qualcosa di intrigante guardando ci sono anche i picconi di salva al mondo perché ce ne sono cinque su salva al mondo mica le wwzela che erano uscite per i mondiali due anni fa il salsiccio 8 che è veramente fighissimo e il lama di cioccolato molto molto carino anche questo e poi andando avanti riusciamo appunto a vederli tutti deltaplani anche qua ce ne sono tantissimi mi manca un deltaplano leggendario purtroppo che è quello della macchina ne ho tutti gli altri ma purtroppo quello lì non è ancora arrivato tra cui il dragone reale che dicono essere tantissimo che non esce e quindi sono molto contento di averlo preso in season 3 se non ricordo male per poi appunto averlo anche adesso un altro che mi piace tantissimo è il il lama gonfiabile veramente veramente molto simpatico da vedere e ruggine quello che utilizzo con la skin spina dorsale perché molto bello vice re è un altro di quelli che mi fa impazzire season 4 fa parte del set degli agenti tanta roba vice re veramente veramente molto carino quello dell'ottoberfest che è davvero simpatico per poi scendere insomma quelli non comuni e tutti gli ombrellini delle varie season chiaramente terminiamo con i balli anche perché fanno dei per forza suonare i balli non sto neanche a farvi vedere perché sono veramente tantissimi ragazzi ah ho il mako della season 1 tantissimi ce ne sono veramente un sacco che mi piacciono come vi stavo appunto dicendo è inutile farveli vedere quindi passo semplicemente in rassegna anche vabbè questi tutti quelli del pass battaglia lo sapete anche voi tutti gli adesivi che però non c'entrano e come per quanto riguarda scie eccole qua ce ne sono forse un paio che sono uscite tra cui quella uscita insieme alla renegate alla recon expert che poi non hanno più fatto uscire nello shop che è la la scia synth è uscita un paio di settimane fa quindi secondo me diventerà molto 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 apprezzabile e per terminare ragazzi le coperture le ho tutte questo ci tengo a dirlo le ho prese tutte dalla prima che è uscita e quindi dalla più rara perché non è mai più uscita che è esattamente nuvole dorate 600 vbucks season 7 è uscita un giorno non l'hanno più rifatta per passare appunto a tutte quelle presenti in game che sono veramente tantissime insomma ragazzi questo era il mio video speciale per l'armadietto torno in full cam e come sempre il ringraziamento va a voi che avete contribuito ad avere questo traguardo penso sia l'armadietto più costoso d'italia e uno dei più costosi al mondo in assoluto perché mancano forse 50 skin forse meno vi ringrazio per averlo guardato e vi ricordo di iscrivervi al canale ciao 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 ciao